salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale stefano gt nel video di oggi andremo a vedere una codifica che si effettua col vag con per cambiare la grafica del proprio display digitale active info display delle auto vetture del gruppo volkswagen nel caso specifico vi farò vedere la codifica per cambiare la grafica del mio display della mia golf gt performance restyling che cambierà il fondo scala da 280 km orari a 320 km orari lo stesso che è impostato di serie sulle golf r 2018 per effettuare questa codifica andrò a utilizzare il cavo vag com con software vcds aggiornato alla versione 18.9 ma anche chi dispone la versione 18.2 può effettuare questa codifica mentre versioni 17.8 a scendere non è possibile effettuare la codifica iniziamo subito a selezionare il modulo 17 che è quello relativo al cruscotto ok selezioniamo 17 scotto e poi andiamo su adattamento per le versioni in inglese c'è scritto adaptation ora apriamo il menu a tendina e troveremo in fondo a tutto la voce tube version anche in inglese è scritto tube version ok allora abbiamo come valore di default la variante numero 3 quindi la variante numero 3 indica il valore che è impostato sulle golf gt con fondo scala 280 km orari io andrò inserire un nuovo valore che il numero 4 che è il valore impostato di default sulle golf r facciamo adattare diamo conferma e vediamo che il fondo scala è passato da 280 km orari a 320 km orari mantenendo sempre i colori di base tendenzialmente a rosso mentre sul golf r abbiamo il blu ora per chi non ha una golf gt può sperimentare anche altre varianti proverò la versione 5 per farvi vedere che cosa cambia mettiamo valore 5 adattiamo e abbiamo una grafica che più o meno assomiglia alle versioni delle golf r line 2000 turbodiesel e 1500 tsi con quel tipo di contagiri e di contagilometri andiamo ora a reimpostare la versione scelta da me che è la numero 4 quella con display simile golf r con fondo scala 320 km orari selezioniamo adattare ok sì ed ecco che display ritornerà con fondo scala 320 come avete potuto vedere la codifica è stata semplice e veloce mi raccomando se il video vi è piaciuto lasciate un like e commentate e per chi non è iscritto al mio canale iscrivetevi al mio canale stefano gt ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video iscrivetevi al canale